Mi chiamo Giulia, ho 23 anni, sono italiana e sono operations assistant da Modaresa. Ho deciso di venire a lavorare da Modaresa perché trovo che sia un ambiente estremamente stimolante e interessante in cui si può crescere in maniera esponenziale. La parte che più mi piace di lavorare a Modaresa è il fatto appunto di poter assistere e lavorare fianco a fianco con l'amministratore legato e il chief of staff. E la trovo una cosa estremamente a me interessante e stimolante. Nei candidati per operations sicuramente cerchiamo una persona che possa essere proattiva, che non abbia paura di mettersi in gioco e che sia in grado di essere sia versatile che molto organizzata. Quindi se Modaresa vi interessa non esitate ad applicare e saremo molto felici di parlare con voi.